Una gestione virtuosa ed un esempio da seguire. Per questo a Palermo nel corso del secondo Ecoforum sui rifiuti e l'economia circolare, alla presenza del governatore Nello Musumeci e del presidente nazionale di Lega Ambiente Stefano Ciafani, il sindaco di Torrenova Salvatore Gastrovinci e tutta l'amministrazione, insieme ad altri due comuni dell'isola, sono stati premiati per aver introdotto la tariffazione puntuale del servizio raccolta, grazie alla quale è riuscita a ridurre drasticamente la quota indifferenziata con benefici per l'ambiente e per i cittadini. La scelta dell'amministrazione, accompagnata da serrati controlli per prevenire e sanzionare gli abusi, permette una considerevole riduzione delle bollette e costituisce un esempio virtuoso da replicare per gli altri comuni dell'Aro, dimostrando che è possibile cambiare un sistema dominato dagli interessi privati. Come detto, la premiazione è avvenuta durante il secondo Ecoforum regionale che ha visto gli esperti e i politici confrontarsi sul tema dei rifiuti. Nell'isola, infatti, si incomincia a registrare un'inversione di tendenza rispetto al passato sul fronte della differenziata, passata in un anno dal 21 al 35%. Ma restano ancora molti problemi risolti, come è stato ritenziato dal segretario regionale di Lega Ambiente Gianfranco Zanna. Sugli impianti, ad esempio, non è stato registrato alcun progresso. La scelta di scaricare sui territori la programmazione, ha detto Zanna, è sbagliata e bisogna finirla di fare nuove discariche. Altro esempio virtuoso è stato considerato l'accordo di programma tra il Consorzio Nazionale degli Imballaggi, il CONAI, e la Regione in tema di differenziata. L'obiettivo è migliorare la gestione dei rifiuti di imballaggio e delle frazioni merceologiche similari per favorire una corretta ed efficace gestione, nonché lo sviluppo della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio. È stato firmato tra il Presidente del CONAI e il Presidente della Regione Siciliana un accordo che impegna il CONAI a supportare le attività della Regione nello sviluppo della raccolta differenziata e nella virtua al riciclo dei materiali, partendo dalle principali città della Regione per poi interessare anche tutti gli altri comuni progressivamente.